salve a tutti e a tutte l'esercizio che dovrete fare per lunedì 27 riguarda la guerra del peloponneso in particolare gli antefatti cioè ciò che è accaduto prima e le cause della guerra che cos'è la guerra del peloponneso detto in parole povere è un lungo conflitto di circa 30 anni che impegnò le poleis greche schierate su due versanti opposti e che segnò in maniera significativa la storia della grecia antica è il secondo grande evento della storia greca dopo le guerre persiane qual è la differenza nelle guerre persiane i greci le poleis trovano un punto di accordo una coalizione qui invece si dividono passiamo alla spiegazione della consegna nella prima parte la parte a dovrete come al solito vedere alcuni video sono cinque ma sono brevissimi che riguardano l'argomento della consegna cioè gli antefatti ciò che è accaduto prima e le cause della guerra guardate i video e man mano che li guardate rispondete alle domande le domande la sequenza delle domande rispetto alla sequenza dei video dopodiché dovrete utilizzare le informazioni raccolte nel questionario per elaborare a vostra scelta quindi potete scegliere o una mappa concettuale cosa che sapete fare molto bene oppure un infografica e la mia il mio invito è quello di sperimentare l'infografica che potete creare con l'applicazione online www.easel.ly ok che cos'è un infografica in maniera molto semplice è una presentazione di un argomento in cui risultano associate informazioni di testo e immagini sia nella mappa che nell'infografica dovranno comparire queste informazioni una definizione di guerra del peloponneso perché si chiama così le caratteristiche generali del conflitto i protagonisti cioè chi quali sono le due poleis che si confrontano e la periodizzazione da a quindi questa è una prima parte che non dovete inglobare in un'unica voce ma suddividere in più parti cosiddette ramificazioni e poi le cause la causa vera e quella estemporanea il cosiddetto casus belli cioè quella vicenda quell'evento che mette in moto il conflitto terzo punto l'importanza della lega delioattica in relazione a una delle due cause quale la causa vera o quella estemporanea come dovete consegnare l'elaborato se fate la mappa concettuale potete caricare direttamente il file della mappa che generalmente un file jpeg oppure pdf all'interno di classroom nominandolo in questo modo cognome underscore cioè trattino basso pelop underscore uno underscore trattino basso se invece scegliete di realizzare un'infografica opzione che vi consiglio caldamente di sperimentare con l'applicazione online easily potete scegliere tra due opzioni che vi ho illustrato qui con un'infografica allora potete scegliere di scaricare l'infografica che avete creato scegliendo l'opzione scarica nominare il file secondo la modalità indicata in alto e caricarlo in classroom come file di immagine file jpeg png comunque un file d'immagine oppure potete scegliere l'opzione b in classroom non condividerete l'immagine quindi un file ma un link nella consegna c'è l'opzione link condividerete cioè il link dell'infografica che avrete creato su su easily date al vostro lavoro un titolo perché sia immediatamente identificabile in questo caso antefatti e cause della guerra del peloponneso cosa non dovete fare assolutamente inviare per mail elaborato o caricarlo nella classroom precedente buon lavoro